Il prossimo 11 novembre dalle 9.30 del mattino a Palazzo Moncada si terrà il convegno tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio minerario e culturale siciliano, evento realizzato con il partenariato della regione siciliana, del comune di Caltanissetta, delle vie dello Zolfo, dell'Università della Calabria, dell'ISPRA e non solo. Si parlerà della valorizzazione delle miniere della storia, della cultura ad esse collegate ma anche dell'importanza economica, sociale e scientifica, ambientale e paesaggistica. Un convegno che guarda al turismo scientifico legato alla ricerca e all'archeologia mineraria e alla sostenibilità ambientale. Si tratta di un importante evento che l'abbiamo deciso di fare giorno 11 perché è il giorno precedente alla commemorazione delle vittime del cimitero di Gesso Lunco, della tragedia del 12 novembre che si verificò nel 1881. Questo convegno ha un tema molto importante, un titolo molto importante, quello della tutela, della valorizzazione del patrimonio minerario siciliano e per intenderci dalle nostre parti, quando parliamo di patrimonio minerario parliamo delle zolfare. Un convegno organizzato dal comune di Caltanissetta insieme all'ISPRA di Roma a cui parteciperà l'Università di Catania, il dirigente generale dell'assessorato acqua rifiuti e pubblica utilità che si occupa appunto di cave e miniere. Poi sarà presente anche il presidente dell'associazione italiana e l'associazione nazionale ingegneri minerari. Insomma è un momento importante per fare il punto della situazione e poter iniziare quel progetto che da alcuni mesi sta andando avanti nel comune di Caltanissetta e nei comuni circostanti che è quello della costituzione delle vie dello zolfo. Le aree minerarie recuperate e valorizzate diventerebbero quindi dei veri e propri musei dei luoghi, un convegno che tratterà la tematica da diversi punti di vista con l'alternarsi degli interventi di più relatori, tra cui la coordinatrice delle rete dei musei dei parchi minerari Ereni Ispra, la dottoressa Agata Patanè e il dottor Andrea Stellato dell'Università della Calabria e il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. Ci sarà poi un momento dedicato alle vie dello zolfo, cioè un protocollo per la valorizzazione del territorio del centro Sicilia. Si parlerà anche di economia circolare e della valorizzazione delle miniere siciliane insieme all'ingegnere Antonio Martini, direttore generale del Dipartimento dell'Energia, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi Pubblici della Regione Siciliana e dei programmi regionali per la valorizzazione del patrimonio dismesso, insieme all'ingegnere Domenico Savoca, presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari.